L'esposizione all'arsenico inorganico nei neonati e nelle donne in gravidanza può avere effetti molto negativi sulla capacità di apprendimento dei bambini, per questo la Food and Drug Administration americana propone la limitazione dei livelli di arsenico inorganico presente nel riso destinato all'alimentazione dei bambini. Donne over 65 che erano in sovrappeso durante l'età adolescenziale hanno più propensione a sviluppare sintomi depressivi rispetto al genere maschile. Questo è quanto emerge da uno studio dell'Università di Washington a Seattle, pubblicato sull'American Journal of Surgery uno studio californiano che evidenzia come un paziente su 20 viene riammesso in ospedale entro 30 giorni dalla chirurgia bariatrica a cui è stato sottoposto a causa di infezioni gastrointestinali, motivi dietetici o sanguinamento. I notevoli progressi della ricerca scientifica e i trattamenti delle patologie neoplastiche sempre più personalizzati permettono di prolungare in modo significativo la vita di chi è colpito da tumore e allora c'è un numero sempre maggiore di pazienti giovani e adulti che hanno superato la neoplasia, i cosiddetti survivors e a questi pazienti è importante preservare la fertilità per permettere loro di diventare padri e madri intervenendo con la crioconservazione dei gameti in modo tale da garantire un futuro fertile e se ne parla presso il Policlinico Umberto I a Roma. Oggi si parla di queste patologie gravissime da cui adesso si guarisce o quantomeno si vive e continuando le cure. Oggi si parla di speranza per chi vuole essere genitore, ma queste speranze poi sono reali? Assolutamente sì, intanto parliamo di una percentuale fortunatamente bassa, intorno al 3% di tutta la popolazione che si ammala di neoplasia, sono sotto i 40 anni e l'oncologo ha il dovere di poter fare un'operazione di counseling, ovvero di indirizzare uomini e donne che si ammalano in età così precoce a valutare la possibilità di diventare genitori dopo i trattamenti. Le terapie oggi ci danno grosse speranze, ma anche la possibilità di lavorare con tutti i colleghi della medicina riproduttiva consentono di poter poi far diventare genitori una parte dei nostri pazienti e questo ovviamente oltre il dolore di dover vivere una situazione importante e anche di superare un problema psicosociale che non è di poco conto. Ecco, ma l'informazione su questi dati così importanti, sono a conoscenza anche dei medici di base per esempio? Dei medici di base, questo non glielo so dire, ma l'IOM ha fatto proprio delle linee guida, ci sono delle linee guida proprio sulla preservazione della fertilità e per cui noi oncologi abbiamo questo dovere di dover informare e lo facciamo quotidianamente i nostri pazienti ed indirizzarli poi nei centri specialistici. Professoressa, intanto uno può anche pensare fino a quanto si può conservare un seme, il gamete? Ah, io direi è semplice per sempre se necessita. In realtà è sempre importante la valutazione clinica della situazione del paziente pre e post terapia e se la terapia purtroppo ha devastato la realtà testicolare di produzione dei gameti, quel paziente potrà conservare nella nostra banca il seme per sempre. Abbiamo semi crioconservati da più di 20 anni perché erano ragazzi molto giovani, 17-18 anni e come sapete la fertilità ormai, il desiderio di paternità ormai è spostato negli anni, oltre ai 30-35, quindi i pazienti possono conservarla fino a che è necessario. Professore, qual è la situazione italiana per quanto riguarda l'oncofertilità? Cioè quanti italiani si rivolgono alle strutture come per esempio questa in cui ci troviamo, il Policlinico Umberto I? Il problema dell'oncofertilità è un problema ovviamente che riguarda i pazienti donne e uomini giovani che abbiano quindi un tumore in una fascia d'età compresa fra i 14-15-16 anni e i 20-25, età in cui in generale il paziente ancora non ha avuto una fertilità propria e che vuole crioconservare il seme nel caso del maschio o il tessuto ovarico o gli ovociti nel caso della donna per poi poterlo riutilizzare dopo la risoluzione della terapia, della patologia attraverso la terapia e dopo che questo gli ha consentito poi di avere una vita normale fra cui appunto, fra le altre cose, il desiderio di avere una prole. Allora, in questo discorso che io ho appena fatto ci sono alcuni presupposti. Il primo, abbiamo oggi la possibilità di far sopravvivere moltissimi dei ragazzi e delle ragazze che una volta purtroppo morivano per le patologie neoplastiche. Oggi un uomo che ha un tumore testicolare, una donna che ha una patologia tumorale di qualsivoglia tipo, un uomo o una donna che abbia una malattia ematologica che rende la propria fertilità ridotta ridotta in conseguenza la chemia e le radioterapie, spesso sopravvivono abbastanza a lungo da poter desiderare avere figli, spesso sopravvivono come un soggetto normale. A questo punto abbiamo un altro aspetto, cioè quella della tecnologia che mette a disposizione le banche del seme, le banche dei gameti e degli ovociti per consentire di conservare la quantità di seme, quindi di spermatozoi o di ovociti necessari poi per poter avere un figlio quando saranno adulti. Rivolgersi alle banche così per la conservazione, la crioconservazione, è previsto dal sistema sanitario nazionale? Assolutamente sì, la banca dei seme qui del Policlinico che è attivo ormai dagli anni 90 è a costo zero per il paziente, nel senso che il paziente accede a noi su indicazione dell'oncologo, dell'ematologo e direttamente con un sistema di chiamata diretta perché purtroppo in questi casi bisogna essere attivi H24 come si dice in medicina, cioè nel senso di essere sempre disponibili per il paziente, attraverso un contatto diretto avrà il paziente la possibilità di accedere alle norme di sicurezza che sono necessarie per i medici di conservare il campione di seme perché ovviamente quando noi congeliamo gli spermatozoi congeliamo anche tutto il resto che c'è assieme a loro, quindi se ci fossero dei virus conserviamo anche quelli, quindi bisogna avere una batteria di analisi per evitare che vi siano problematiche, dopodiché si procederà alla crioconservazione e tutto questo avviene in pochissimi giorni per consentire poi al paziente di passare alla fase 2 che è quella della terapia radioterapica o chemioterapica. Alla fine di questo periodo poi c'è un follow up, cioè il paziente viene seguito dal centro per vedere se siamo nei casi più fortunati e recupera la sua fertilità spontanea, in quel caso ovviamente la crioconservazione è a tempo limitato, se invece non recupera la sua fertilità quel seme verrà congelato e conservato fino a quando il paziente non lo richiederà per poter fare un bel bambino con la sua compagna che avrà scelto. Una bella eccellenza italiana? Un'eccellenza italiana, un'eccellenza della Regione Lazio dove appunto abbiamo fatto questo convegno un po' per onorare il progetto Fertilità e Futuro Fertile che il Ministro Lorenzini ha messo a disposizione anche proprio in funzione di quello che è il suo piano per la fertilità, un po' anche perché proprio in Regione Lazio straordinariamente abbiamo un'eccellenza antica, se vogliamo chiamarla così, come la nostra banca del seme che attiva dagli anni 80-90 e appunto del tutto di recente proprio la Regione Lazio ha finanziato al Regine Elena una banca degli ovociti e quindi abbiamo tutti e due i capisaldi qua e a Regione Lazio. Grazie per la sua gentilezza. L'Axi e Pedalando nella Soria stanno organizzando un evento straordinario, stiamo parlando di una ciclo pedalata di 1100 chilometri che parte da Roma, passa per Olimpia e poi termina ad Atene, 1100 chilometri difficilissimi, lunghissimi, sotto pioggia, sole, montagne, panora e traffico considerato le buche, ma la cosa più straordinaria è che questa ciclo pedalata sono più di 30 persone che in età media ha 64 anni, abbiamo 4 non vedenti e in più c'è anche un 81enne che mi sembra che è abbastanza coraggioso prendersi e mettersi su un sellino, ma il coraggio di tutti quanti, cos'è che porta a sposare questa passione? Questa passione io personalmente ce l'ho da bambina, poi questa passione ti dà tanto perché ti dà la possibilità intanto di socializzare e andare con gli amici e di farti simulare da loro proprio, anche perché qui se c'è una persona da ammirare è il nostro capitano appunto di 81 anni che ci traina verso una passione, verso un vortice proprio incredibile, la sua grinta è la nostra guida, il nostro stipendio, secondo me. E secondo l'accompagnatore di questo gruppo, di questo tandem particolare, come ce ne saranno altri durante la manifestazione, cos'è che spinge le persone a lanciarsi in questa avventura? Beh, penso alla fine il piacere, nel senso che è un hobby, un hobby molto bello perché unisce l'amicizia, la natura all'attività sportiva, quindi di quanto di più completo ci possa essere. E quindi quando c'è anche l'allenamento poi si sente meno la fatica e si gode di più dell'attività fisica, dell'amicizia e di questa avventura. Cinzia Coluzzi, sappiamo che è un'atleta paraolimpica e quindi ha conosciuto tante manifestazioni e tanti sacrifici, quanto è importante il gruppo in una manifestazione così lunga e così impegnativa? Ma in questo tipo di attività qui è importantissimo, anche perché il cicloturismo, a differenza dell'agonismo, il gruppo è gruppo davvero, nel cicloturismo si mangia insieme, si ride insieme e invece nell'agonismo non c'è un gruppo, ognuno è rivale dell'altro, si dice sì la squadra, la squadra ma in realtà ognuno vuole vincere, anche perché l'agonismo si fa per vincere, invece il cicloturismo è proprio l'opposto ed è il bello perché ti fa godere proprio della vita, di tutto quello che la vita ti può dare e tra l'altro non da solo ma insieme agli altri e non c'hai l'ansia, hai l'avventura. Dottor Perugini, lei è l'organizzatore, traina questo gruppo perché praticamente lo spinge a questa avventura qui e inoltre è medico, quali sono gli aspetti più importanti e interessanti perché la bicicletta, in questo caso la bicicletta, fa bene e quali sono invece i punti critici che bisognerebbe fare attenzione a chi si avventura a una manifestazione così impegnativa? Diciamo che tutti i partecipanti, io impongo a tutti i partecipanti di essere tesserati con un'associazione sportiva, il che vuol dire aver fatto una visita di idoneità sportiva a livello agonistico, questa è una garanzia per me come organizzatore ma soprattutto per il singolo ciclista. Il ciclismo fatto al nostro livello è uno sport sicuramente valido dal punto di vista dell'impegno cardiovascolare, muscolare, osteoarticolare, bisogna farlo con grano salis, bisogna evitare di strafare, bisogna fare dei controlli periodici ed è quello che io chiedo a tutti i partecipanti a queste manifestazioni. È anche vero che chi si iscrive alle manifestazioni pedalando nella storia è gente abituata da anni a pedalare, perciò è gente che sa quali sono le regole da rispettare per mantenere il proprio organismo in buona efficienza. Il rischio a cui a volte si va incontro è che si tende a volte un pochino a strafare, questo purtroppo può capitare, pur di non perdere la ruota dell'amico che ha tre anni più di te, a volte si tende a strafare, a fare la salita tutta, a poi a volte questo può creare qualche piccolo problema, però diciamo in linea di mastra sono tutte persone esperte, ben equilibrate, che insomma grossi problemi non hanno mai creato. Quanto è difficile guidare un non vedente in un tour così lungo, in una manifestazione poi così impegnativa? Dipende anche dal non vedente, nel caso di Cinzia è abbastanza semplice perché lei avendo fatto anche del professionismo è molto sensibile, quindi praticamente è come andare da solo, nel senso che ti asseconda in tutti i movimenti, in tutte le curve, quindi al di là di una difficoltà tecnica dovuta alla mole del tandem, per il resto le difficoltà sono abbastanza relative. Ecco stiamo parlando della ciclo pedalata Roma-Atene-Olimpia che l'Axi organizza insieme a Pedalando nella Storia, è un'associazione storica, naturalmente Pedalando nella Storia ogni anno fa una iniziativa che è legata a un contesto che in quell'anno si celebra, sia esso storico sia esso di ricorrenza politica, soprattutto se è inserita nel carattere sociale. Quest'anno ricordano le Olimpiadi e quindi Pedalando nella Storia ho pensato di organizzare la ciclo pedalata per dieci giorni con partenza da Roma e arrivo ad Olimpia nel momento in cui si accenderà la fiaccola olimpica. Questa fiaccola che partirà da Olimpia per arrivare a Rio si celebreranno le Olimpiadi. Quest'anno è l'anno delle Olimpiadi e noi siamo qui anche a sottolineare il fatto che lo sport è un argomento che aggrega, è un elemento che aggrega, è un elemento che unisce anche nel segno dell'amicizia e i fatti che sono successi in questi giorni a Bruxelles debbono segnalare l'importanza dello sport, che lo sport non da adesso ma da sempre ha consolidato questo suo interesse, questa sua voglia di pacificare la gente. È uno strumento importante per la realizzazione della pace. Proseguiremo anche nei prossimi anni troveremo l'occasione e la motivazione per portare attraverso lo sport un messaggio di solidarietà e di pace per tutte le popolazioni.